Tutto bene? Tutto bene. Lei come sta? Tutto a posto? Mi deve stare prendendo, quindi. C'è qualche problema, possiamo parlare? No, io non ho nessun problema. Allora, spingalo questa telecamera. Perché? Stiamo facendo i controlli. Non è giusto quello che fanno. Perché non è giusto? Che state giusto? Voi state facendo una cosa giusta, io faccio una cosa di controlli. Stiamo facendo un film? Lo so, voi no, ma io sto registrando un atto pubblico. Gliel'ho detto già, gliel'ho detto già. Ho detto che non stiamo facendo un film qua. Questa dovrà andare alla legalità. Io? Una scena pubblica, signore. Una scena pubblica, voi state operando nella legalità. No, non vi inquadro, non c'è problema. Voi sarete nella legalità, io sto riprendendo una scena pubblica, punto e basta. Cioè, uno deve avere problemi quando sta facendo qualcosa illegale, no? Ma lei non so nessun diritto di farci le fotografie? Io? Come sto facendo? Non sto facendo delle fotografie, sto facendo un film di una piazza pubblica, un logo pubblico. Non sto facendo via la strida pubblica. Non sto facendo qualcosa così. Grazie.